Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Per il progetto di oggi ho utilizzato un filato di alta moda dell'azienda Lane di Biella Cofila Questo progetto l'ho realizzato per una mia amica, una ragazza giovane E quindi volevo una maglia un po' moderna, un po' trendy Ho pensato a una costruzione veramente semplice in modo che anche voi possiate riprodurla Ho realizzato due pannelli, successivamente li ho uniti e lavorando a spirale ho creato le maniche Il pannello anteriore è più corto del pannello posteriore di 10 cm Questo per dare un taglio un po' sbarazzino, un po' moderno a questa maglia Il filato è molto morbido ed è perfetto per realizzare capi destrutturati Perché si adatta perfettamente a qualsiasi fisicità Il filato si presenta in rocche da 530 grammi È un filato in poliamide 100% E il colore è un bianco candido È un filato come vi dicevo di alta moda Infatti se guardate sul catalogo di lane di Biella Cofila Vedrete che i filati sono stati implementati con dei filati di alta moda Sono filati che vengono utilizzati da una famosa Maison E lane di Biella è riuscita ad averli Sono filati di grammatura un po' particolare Ed è per questo che lane di Biella riesce a venderli a questo prezzo così competitivo Perché un filato di questo tipo Con questa grammatura Al prezzo che troverete in catalogo Sicuramente non lo troverete da nessuna parte Perché sono filati unici Il filato io l'ho lavorato con un uncinetto del numero 6 E come vi dicevo ho realizzato due pannelli Il filato si presenta in rocche come vi ho detto da 530 grammi Ed è un filato veramente molto particolare Perché guardate Allora vediamo un po' di togliere sotto il lavoro Altrimenti non si riesce a vedere bene Il filato guardate si presenta con delle palline Con dei ciuffetti di filato Ciuffetti di pelo Che conferiscono un tocco originale a questo filato È morbido Io lo accarezzo ed è veramente molto morbido Non è difficile da lavorare Perché voi dovete semplicemente lavorarlo Come un filato classico tradizionale Perché molte volte mi avete scritto Dicendomi che insomma questi filati qui Voi avete paura ad acquistarli Perché non sapete come lavorarli Acquistatelo tranquillamente Perché adesso vi faccio vedere Quanto è semplice lavorare questo filato Un consiglio Non utilizzate un uncinetto troppo piccolo Perché altrimenti il lavoro resta troppo compatto E non avete questo risultato Guardate che bello Allora infilo la mano così potete vedere Nonostante ci siano questi trafori determinati dal punto alto Il capo però veramente molto caldo Allora il capo che vi mostro io È una taglia 44 Però come vi dico sempre Voi realizzate un campione In modo che possiate poi capire E calcolare quanti punti dovete realizzare Per creare la maglia che volete Prendete Allora fate un campione 10x10 E vedete quanti punti ci vogliono Successivamente prendete la misura da fianco a fianco E trasformate quei centimetri in punti Vedete realizzare il campione è molto semplice Insomma Però è un lavoro che vi facilita molto Siete sicure di non sbagliare Questo capo vi dicevo è una taglia 44 Mi raccomando state un po' abbondanti Calcolate qualche centimetro in più Perché proprio la struttura del capo Lo vuole un po' morbido Un po' abbondante Allora cominciamo subito con il video tutorial Per una taglia 44 Io ho montato 54 catenelle Che equivalgono a 50 centimetri Questo capo però se dovesse realizzarlo per me Che porto una taglia 40-42 Terrei come misura 50 centimetri Perché questo capo fa veramente molto più figura Se è abbondante Se è un po' cascante Se è un po' morbido Quindi calcolate sempre qualche centimetro in più Allora vedete Semplicissimo Non tenete conto di queste palline Di questi ciuffetti Fate Calcolate che sia un filato normale Quindi Vedete Faccio l'avvio del lavoro E vado a montare le mie catenelle Guardate quanto è semplice lavorare Ci sono degli spazi Un po' a punto alto Quindi Andiamo avanti Realizzando le nostre catenelle Quando avete montato Il numero di catenelle che vi occorre Andate a fare 3 catenelle in più 1, 2, 3 Che sono quelli che sostituiscono Il primo punto alto Allora 1, 2, 3 Nella quarta catenella di base Vado a realizzare il mio punto alto Guardate È veramente molto semplice Il filo scorre che è una meraviglia È molto morbido E si lavora veramente bene La cosa che mi ha colpito di questo filato Spero di renderli idea Un filato asciutto Si lavora tranquillamente Non scivola dalle mani Perché molte volte Soprattutto se si lavorano dei filati In seta Misto seta Può capitare Che lo si senta un po' Troppo morbido sotto le mani Questo filato invece no Quindi anche se siete dei principianti Acquistatelo tranquillamente Perché vedrete Non farete fatica a lavorarlo Guardate che spettacolo Il numero di uncinetto Come vi dico sempre Dipende anche dalla tensione Che voi date al filato E dal risultato Logicamente che volete ottenere Secondo me L'uncinetto numero 6 È perfetto Però se voi avete una tensione molto lenta Avete una mano molto morbida Provate anche con un 5 e mezzo Insomma Dovete regolarvi un attimino voi Allora si prosegue con questo schema Lavorando un punto alto In ogni punto di base Dopo aver lavorato Tutta la prima riga Per realizzare il secondo giro Faccio una catenella E volto il mio lavoro All'interno dello stesso punto Vado a realizzare un punto alto L'inizio del lavoro L'inizio del lavoro deve avvenire sempre In questo modo Perché altrimenti Se cominciamo il lavoro Con le 3 catenelle Si forma il buchino del punto Ed è veramente brutto da vedere Quindi adesso si prosegue Lavorando un punto alto In ogni punto sottostante Il punto andate a realizzarlo Nello spazio di separazione Fra un punto e l'altro Non lavorate nell'asola Perché altrimenti Il punto cede troppo Vedete Lavorate proprio In questo spazio di separazione E non all'interno dell'asola Vedete? In questo modo Quindi adesso Andate a realizzare Con questo schema Con il punto alto Tutto il pannello posteriore Dopo aver realizzato Il pannello posteriore Quindi è proprio Un pannello dritto Non dovete fare Nessuna diminuzione Non dovete fare Assolutamente niente Dovete realizzare Il pannello posteriore Successivamente È il momento Di realizzare Il pannello anteriore Il pannello anteriore È più corto Del posteriore Di 10 cm E per realizzare Lo scollo Vedete Io ho calcolato Esattamente 1, 2, 3 Allora Ve lo dico In centimetri Che è meglio Per realizzare Lo scollo Io ho lavorato 4 cm In meno Sono circa 5 giri Allora Ho realizzato Lo scollo In questo modo Ho calcolato 12 cm Per la spalla E 12 cm Per l'altra spalla La parte centrale L'ho tenuta Per lo scollo Quindi Ho proseguito In giri Di andate e ritorno Fino a quando Non ho raggiunto Il pannello posteriore Ho chiuso il mio lavoro E ho cucito Le due spalle Quindi vedete Anche realizzare Lo scollo È veramente Molto molto semplice Interrompete La lavorazione Nella parte centrale Del pannello E proseguite Sui due lati Sulle due spalle Fino a quando Non avete raggiunto L'altezza Del pannello posteriore Potete fare Uno scollo Più pronunciato Potete interrompere La lavorazione Quando mancano Non so 6 giri Al pannello posteriore Oppure potete fare Un capo più accollato E interrompere La lavorazione A tre giri Dal raggiungimento Del pannello posteriore Quando ho raggiunto Il pannello posteriore Ho cucito Le mie due spalle E il lavoro Poi si presenti In questo modo Lo scalfo Per realizzare La manica Io ho calcolato Uno scalfo Di 20 cm Ho messo Il mio marca punti E sono andato A cucire La mia parte laterale Adesso vi mostro Come fare Per realizzare La cucitura Con l'ago Ho preso Lo stesso filato Con un ago Di plastica Dalla cruna Molto larga Per permettere Ai ciuffettini Di pelo Di passare Attraverso la cruna Quindi ho fatto Il mio nodino E adesso vado A fare la mia cucitura Mi raccomando Il lavoro Sul rovescio E mettete Il marca punti Cos'almeno Siete sicure Di fare le cuciture Nel modo giusto Io ho segnato In questo modo Vedete Ho messo Il mio marca punti Adesso Entro In ogni In ogni punto Del pannello Anteriore Del pannello Posteriore E vado A realizzare La mia cucitura In questo modo In questo modo Vedete Veramente molto semplice Nonostante sia un filato Molto d'effetto Perché è veramente Un filato spettacolare Però è semplicissimo Da lavorare Poi dà anche Molta soddisfazione Perché il lavoro Cresce in fretta È veramente Molto particolare Con un filato Del genere Non è necessario Utilizzare Un punto Molto traforato Un punto complesso Perché Quello che fa Tutto È il filato Non serve Un punto particolare La bellezza Del lavoro È data Proprio Dal tipo di filato Dalla composizione Del filato Ecco fatto In questo modo Adesso io vado A cucire Tutto il mio lavoro Quindi mi raccomando Cucite per prima cosa Le spalle Calcolate 20 cm Per lo scalfo Delle maniche Mettete il marca punti E proseguite Con le cuciture Fino a quando Non avete raggiunto Il bordo inferiore Della vostra Della vostra maglia Se non vi piacesse Il bordo La struttura In questo modo Realizzata In questo modo Con il pannello Più lungo Dietro Con queste due Lunghezze Un po' Differenti Potete Tranquillamente Realizzare Due pannelli Della stessa Lunghezza Ho terminato La mia cucitura E quindi Adesso mi ritrovo A dover realizzare La manica Sui 20 cm Dello scalfo Prendo il mio filo Punto l'uncinetto In una zona Un po' Nascosta Insomma Vediamo un po' Qua va bene Estrago il mio filo E lo vado Ad agganciare Vedete quanto è semplice Da lavorare Questo filato E' veramente molto bello Mi piace Poi ha una resa altissima Perché ho già realizzato Un cappellino Ho realizzato Delle calzine E adesso sto facendo Questa maglia qui E guardate Quanto filato Ho ancora Allora Ho fatto La mia catenella Di aggancio Del filo Ora vado a fare 3 catenelle 1 2 E una 3 In questo caso Comincio Con le 3 catenelle Adesso vado A realizzare Un punto alto In ogni punto Sottostante Mi raccomando Contate i punti Alti Che andate ad inserire Nel giro manica Perché poi Devono essere Gli stessi Anche nell'altra manica Io l'altra manica L'ho già realizzata Ho fatto 40 punti E quindi vado A realizzare 40 punti Attorno Tutto allo Scalfo Di questa manica Ho terminato Di lavorare Tutto il giro E adesso Proseguo Con la lavorazione A spirale Invece di chiudere Il mio punto Nella terza catenella D'inizio lavoro Con un punto bassissimo Come si fa Nella lavorazione Normale Nella lavorazione A spirale Si prende il filo Si entra All'interno Del primo punto Lavorato In questo modo E si realizza Un punto alto Mettete Un marca punti Perché questo Sarà il punto Dove poi Si andrà A chiudere Il lavoro Adesso si prosegue Lavorando In questo modo Quindi a spirale Per tutta la lunghezza Che desiderate Vedete La lavorazione A spirale È molto semplice Adesso Proseguite sempre Punto su punto Ed il lavoro Risulterà Perfetto Lavoro pulito Senza Che si evidenzino Le tre catenelle Di inizio lavoro Perché molte volte Il rischio Di lavorare In modo tradizionale Quindi con le tre catenelle Di inizio lavoro È quello Di trovare Un'antiestetica Righettina Determinata Dalle tre catenelle Sulla manica Certo È nel sottomanica All'interno Della manica Si nota poco Però io sinceramente Quando faccio Questo tipo Quando costruisco Le mie maglie Con questa lavorazione Preferisco Veramente La lavorazione A spirale Quindi adesso Io proseguo Facendo un punto alto In ogni punto Sottostante Mi ripeto Mettete Un marca punti Dove avete cominciato A fare la lavorazione A spirale Io ho fatto Una manica Al gomito Poco più Insomma Poco sotto Il gomito Poco oltre Il gomito Voi potete realizzare La manica Della lunghezza Che desiderate Potete fare Anche una manica Corta Una manica lunga Come preferite voi A seconda Delle vostre esigenze Ora io termino Di realizzare La mia manica E vi mostro Come realizzare Il collo Per realizzare Il collo Io parto Dalla parte centrale Del pannello posteriore Punto il mio uncinetto Aggancio il mio filo E vado a realizzare E vado a realizzare Tre catenelle Ripeto In pratica La stessa Lavorazione Che ho fatto Per la realizzazione Della manica Quindi Una Due Tre E vado a realizzare Un punto alto In ogni punto Sottostante A fine giro Anche qui Proseguirò Con la lavorazione A spirale Quindi Non farò Il mio punto Bassissimo Di chiusura Nella terza catenella Di inizio lavoro Ma andrò a realizzare Un punto alto All'interno Del primo punto alto Del giro precedente In questo modo Io vado a realizzare La lavorazione A spirale Come ho fatto Per la realizzazione Della manica Proseguo Con questo schema Quindi con la realizzazione Del collo Per tutta la lunghezza Che volete Perché andremo a realizzare Un collo a ciandella Più si lavorerà In altezza Più il collo Diventerà Voluminoso Adesso io Realizzo Il mio collo E poi vi dico Con precisione Per quanti centimetri Ho lavorato La mia maglia È terminata E questo È il risultato finale Avete visto Il collo È molto originale Nonostante sia Un progettino Veramente molto semplice Da realizzare Con il collo A ciandella Il capo Acquista Quello Certo Non so che Che lo rende Veramente Molto particolare Scrivete nei commenti Se il mio progetto Vi è piaciuto Io vi saluto Vi ringrazio E vi do appuntamento Al prossimo video Tutorial Ciao Ciao